È stato un anno molto divertente, anche molto, devo dire, formativo a livello personale. Ritengo di essere cresciuto molto come ragazzo, ritengo di essere molto più adulto adesso, perché è pur sempre vero che avevo 18 anni prima di partire, ma ero pur sempre con la mia famiglia. Mi sono recato là completamente da solo, mai viaggiato da solo in vita mia, e quindi diciamo che è stato un po' come un obbligo quello di dover crescere personalmente. Ci sono stati degli alti e dei bassi, ho avuto un infortunio abbastanza pesante che mi è costato una caviglia e diverse partite di campionato, infatti adesso mi ritrovo con una piastra e con 5 viti nella caviglia destra, però sì, tutto sommato è stata un'esperienza che ripeterei tante volte nella vita. Il prossimo 2 agosto partirò per recarmi in Wisconsin, dove ho deciso di frequentare i prossimi 3 anni di università per un programma di ingegneria meccanica e alla fine di questi 3 anni mi trasferirò in un'altra università che al momento è stata disegnata come Georgia Tech in Georgia, per svolgere gli ultimi 2 anni dove otterrò il master in ingegneria meccanica. Quando sono partito per gli Stati Uniti sono partito dicendo vedremo cosa succederà, quello che viene è tutto buono, non mi aspetto di entrare in college, al massimo mi aspetto di aver fatto un anno in cui mi sono divertito, ho imparato dell'inglese, tornare a casa e iscrivermi a Modena per ingegneria meccanica. Le cose sono iniziate a cambiare quando ho iniziato a svolgere i test di ammissione per l'università, dove ho ottenuto dei punteggi molto elevati, soprattutto per quanto riguarda matematica, ho ottenuto un punteggio di 730 su 800 con cui mi sono classificato nel top 2% degli Stati Uniti d'America come punteggio per matematica, mentre per inglese devo dire che sì, non è andata male e mi sono comunque classificato nel top 15% nazionale. Il football comunque ha fatto la sua parte anche qui, nel senso che se adesso andrò in questa università e sono venuto a conoscenza di questa università che frequenterò è stato grazie al football, perché i coach dell'università hanno visto gran interesse in me, sia sportivamente che per quanto riguarda accademicamente, nel senso che l'università che andrò a frequentare è un'università molto buona per quanto riguarda l'ambito scolastico e l'ambito accademico e propone anche un buon programma di football. Tutto ciò, diciamo, contornato da una borsa di studio che ho ricevuto grazie ai miei meriti accademici, valsi sia nei test di ammissione che anche a scuola in cui comunque mi sono diplomato come miglior studente dell'anno.